Grazie Presidente. Il pessimo livello dello Stato delle relazioni politiche tra l'Unione Europea e la Russia è un dato eclatante che non possiamo negare e con cui bisogna evidentemente fare i conti, affrontando con la dovuta nettezza anche le conseguenze. Da tempo l'Unione, i suoi processi democratici e quelli dei suoi Stati membri sono sotto attacco con più o meno evidenti tentativi di interferenze da parte di potenze straniere. La Russia è una di queste, forse la più esplicita, ha trovato anche in Europa complici politici disposti a sostenerla, complici che siedono pure in quest'Aula. Stiamo giustamente maturando consapevolezza rispetto a ciò. Occorre però anche mettere in campo tutti gli strumenti necessari a difesa dei nostri valori e della nostra democrazia. E ora dobbiamo fare di più, dobbiamo rafforzare decisamente il rapporto con quella società civile russa che tra mille difficoltà prova oggi a costruire spazi di alternativa e di democrazia. Promuove la libera informazione, i diritti civili, lotta contro ogni discriminazione. Essa, questa parte di Russia, deve essere il nostro alleato.